Approvata in via definitiva la zona franca doganale, raggiunto l'importante obiettivo strategico per il rilancio dello sviluppo economico del territorio ionico e quanto afferma con soddisfazione Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Si tratta, dichiara Borracino, del compimento di un percorso articolato che ho seguito personalmente negli ultimi mesi. La proposta avanzata formalmente dal sottoscritto per conto del governo regionale, pienamente sostenuta dal presidente Emiliano, venne recepita dal Parlamento con l'inserimento nella legge di bilancio per il 2020 della norma che prevede appunto l'istituzione della zona franca doganale a Taranto. La perimetrazione dell'area interessata, approvata ora dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su proposta dell'autorità portuale del Marionio, è costituita da 11 lotti per una superficie complessiva di oltre 162 ettari che comprende l'area portuale e, per quanto riguarda la zona retroportuale, l'area del Distri Park di circa 75 ettari. Una volta che la direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà completato le ultime verifiche tecniche sulla presenza delle opere infrastrutturali e avrà definito le modalità per assicurare la vigilanza doganale ai punti di entrata e di uscita di tutta l'area interessata, partirà concretamente la piena operatività della zona franca doganale, la cosiddetta no tax area che, conclude Borracino, potrà dispiegare tutte le sue potenzialità in termini di attrattiva per investimenti e di concreti benefici per le imprese in termini di esenzioni fiscali, tributarie e doganali. No tax area e ZES saranno fondamentali per lo sviluppo economico del territorio e per la crescita occupazionale.